Il processo cosiddetto bis per il crollo della torre piloti di dieci anni fa approda in Cassazione il sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca ha infatti depositato il ricorso contro la sentenza del 10 marzo scorso quella che mandò assolti in appello tutti gli imputati tra lo sdegno dei familiari dei nove morti nella tragedia, in primis a Diadele Chiello, madre di Giuseppe Tosa. Da subito la donna chiese indagini per verificare se vi fossero delle responsabilità per l'accaduto da parte di coloro che decisero di costruire la torre proprio a ridosso del mare le condanne in primo grado le davano ragione ma i giudici di secondo grado invece decisero l'assoluzione e motivarono la sentenza con il fatto che nessuno aveva segnalato pericoli per la collocazione, che l'evento era da considerarsi imprevedibile che chi decise la collocazione e i progettisti erano chiamati a valutare pericoli concreti e non astratti Zucca ritiene invece che la posizione della torre fu decisa per questioni economiche e di comodità prescindendo dalla sicurezza, lamenta che la perizia di tre esperti di fama internazionale è stata messa da parte e che mancano serie motivazioni per assolvere. Dunque, nuovo processo per Ran Grisano, l'ammiraglio allora alla guida della Guardia Costiera di Genova e degli altri quattro imputati per il reato di omicidio colposo plurimo.